I genitori dell'adolescente che ha ucciso quattro studenti in una scuola superiore del Michigan sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo per aver permesso l'uso della pistola al figlio. James e Jennifer Campbell erano attivamente ricercati dalla polizia e dall'FBI da venerdì. Sono stati trovati in un edificio industriale a Detroit a circa 60 chilometri dal luogo del diritto, non lontano da dove la loro auto era stata avvistata. Intanto in una veglia dedicata alle vittime dell'ennesima follia delle armi, la scuola si interroga alle famiglie delle vittime. Voglio dire che non ci sono parole per quello che è accaduto ma posso dire che come comunità siamo qui per voi se avete bisogno. Noi ci siamo e ci saremo. Grazie per la visione.